Sono Roberto Bribio, quello dei gufi, tanto per precisare perché di Bribio ce ne sono tanti. Faccio spettacolo, li organizzo, canto, recito e faccio anche le regie. Ho appena saputo che a Rozzano ci sono delle difficoltà da parte di una scuola per effettuare una festa natalizia con i bambini di tutti i colori, di tutte le nazionalità, di tutte le provenienze. Ebbene io dico che bisognerebbe farla questa festa qua perché i bambini, il Natale per esempio per i bambini è generale, avviene dappertutto, non è una festa più che religiosa, è una festa, la festa dell'albero, una festa dei doni, la festa della felicità, la festa dell'abbandonarsi alla pace, alla tranquillità. Ebbene, io mi propongo nell'organizzazione per potervi dare una mano. Grazie.